Una delle apparenti contraddizioni di Bitcoin è l'idea che le tue transazioni possano essere private ma presenti in un libro masto pubblico. In questa sezione imparerai come utilizzare Bitcoin per mantenere le tue finanze private e proteggere la tua privacy. Ricordiamo che la privacy è un diritto umano fondamentale di cui tutti necessitano. Come strumento finanziario Bitcoin funziona in modo completamente diverso dalla rete bancaria convenzionale. Bitcoin ti consente infatti di gestire i tuoi fondi e di inviare o ricevere valore in completa autonomia via internet e senza la necessità di una terza parte. Questa libertà però ha un costo, che tu stesso mantenga tali fondi sicuri e accessibili solamente da te. Mentre aprire un conto tradizionale in una banca o in un qualsiasi altro istituto finanziario richiede costi e sforzi significativi, la creazione di un conto Bitcoin è gratis, rapida e facile da fare su qualsiasi computer di casa o device mobile. Non sei inoltre limitato ad aprire un solo conto, anzi Bitcoin ti consente di creare milioni di conti separati se ciò è quello che desideri. Due aspetti in particolare, privacy e identità, funzionano in modo estremamente diverso con Bitcoin rispetto all'attuale sistema finanziario. Un conto bancario, un conto PayPal o una carta di credito sono sempre legati ad una vera identità, escludendo o rendendo difficile per moltissime persone al mondo l'accesso a tali servizi. Bitcoin invece ti consente di utilizzare qualsiasi identità tu desideri. Essere in grado di usare internet in modo anonimo o tramite uno pseudonimo è l'unico modo per molte persone di essere veramente se stesse e libere. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo in questo esatto momento non sono accettate nelle loro società per ragioni che non possono controllare. Gli pseudonimi sono stati usati da donne per parlare dei propri diritti, date in atti in società religiose e da persone critiche nei confronti dei propri governi. Gli pseudonimi permettono a chiunque di diffondere il proprio personale pensiero, di partecipare a cause comuni e di avere una propria privacy. Quelli che ho riportato qui sopra sono solo alcuni esempi del perché è importante utilizzare pseudonimi. Uomini e donne coraggiosi in tutto il mondo mettono costantemente a repentaglio la propria sicurezza ed il proprio benessere per difendere la propria libertà ed il proprio credo. La tecnologia consente loro di essere dei leader nel cambiamento sociale in modo più efficiente di quanto avrebbero mai potuto essere prima. La stessa tecnologia internet collega anche persone con mentalità simile in tutto il mondo in modo che possano formare delle comunità compatte per le quali si impegnano. Cercare di difendere e nascondere la propria identità e allo stesso tempo mantenere il proprio pseudonimo sulla rete oggi richiede notevoli sforzi e costi. Senza la possibilità di pagare servizi che aggiungono livelli di sicurezza e privacy come le VPN, acronimo di Virtual Private Network, in modo anonimo si ritorna al punto di partenza. Saresti costretto a rivelare la tua vera identità per mantenere il tuo pseudonimo. Una situazione che chiaramente non ha senso e anzi è potenzialmente pericolosa perché permette di essere deanonimizzato 9 volte su 10. Bitcoin ha un protocollo estremamente importante e potente. L'utilizzo di Bitcoin tramite uno pseudonimo protegge il tuo diritto a rimanere anonimo sull'internet del valore. Consente la raccolta di fondi in modo anonimo o tramite uno pseudonimo. Singole entità o gruppi di persone ora sono in grado di controllare i propri conti Bitcoin e scegliere di nascondere o rivelare determinate informazioni finanziarie a proprio piacimento. Non cominciare subito a pensare male. Ci sono moltissime ragioni positive per un sistema finanziario privato e sicuro come quello proposto e garantito da Bitcoin. Un gruppo per i diritti dei lavoratori potrebbe ad esempio raccogliere fondi con Bitcoin. Il denaro potrebbe essere utilizzato per server, volantini e collaboratori. Il tutto senza legare alcuna transazione alle vere identità dei volontari stessi. Allo stesso modo una vittima di abusi domestici controllata 24 ore sul 24 dal proprio partner potrebbe utilizzare Bitcoin per risparmiare dei fondi in modo sicuro in ottica di una futura vita indipendente. La privacy nel settore bancario tradizionale è garantita dalle istituzioni stesse che costituiscono il sistema come banche, società emittenti di carte di credito e governi. Il loro compito dovrebbe essere quello di assicurare che il tuo saldo bancario rimanga segreto. Questo li metto in una posizione molto delicata dove solo loro hanno la completa visione su cosa tu faccia con i tuoi soldi. Nell'ecosistema di Bitcoin invece tutti possono vedere lo stato e la cronologia di ogni saldo dell'account ma non possono risalire da a partire dal saldo stesso. Tutti gli indirizzi e le transazioni sono infatti registrate nel database distribuito pubblicamente di Bitcoin, la blockchain. Gli indirizzi di Bitcoin non hanno nomi o IP collegati, quindi non è sempre possibile sapere quale conto o transazione appartenga a quale individuo. La trasparenza richiede protezione. Bitcoin è un sistema che è trasparente per definizione, in cui ogni informazione è disponibile al pubblico. In quanto tale, ad ogni utente Bitcoin equivale a un certo livello di protezione. Chiunque sia in possesso di tanti Bitcoin, per ovvi motivi, non dovrebbe condividere il proprio stato patrimoniale con tutte le persone con cui negozia. Ricorda che ogni volta che invii anche solo una piccola porzione del tuo portafoglio Bitcoin, rivelerai la tua ricchezza di quel determinato conto al destinatario. Farciò su internet equivale ad andare in giro vestito d'oro in qualche vicolo buio pieno di malviventi. Non è per niente consigliabile. Un criminale potrebbe vedere quanti Bitcoin detiene e decidere di studiarti e seguirti al fine di derubarti. Distribuire la tua ricchezza su più portafogli e utilizzare un indirizzo diverso per ogni transazione è una pratica comune che impedisce ad altri di sapere quanti Bitcoin o altre criptovalute detieni.